Il parolone. Conte è stato molto criticato per la gestione dei recovery fund, ha però annunciato qui da noi, tra l'altro durante 8 e mezzo, che sarebbe stata creata una struttura ad hoc, la stanno formando con premier, due ministri, sei manager e 300 consulenti. Partiamo bene o partiamo male? Questa è la domanda. Una battuta sul patellario, posso farla? Il tema è quello che ha posto adesso Gruber, che è stata posta prima dalla Kristelin, però è bene che un paese discuta democraticamente nei luoghi appropriati di come poi ripagherà il debito. Non c'è nulla di male, lo può fare insieme, siamo abbastanza democratici per poterci permettere di discutere. Dopodiché sono d'accordo con patellario che l'urgenza di domattina è la risposta alla domanda che ci rivolge Lili Gruber e a cui rispondo così. No, non è quella la strada, secondo me. E quindi cosa bisognerebbe fare? Anche perché i numeri fanno 300 consulenti. Per un motivo banale, perché questo rivela una consapevolezza importante del Presidente Conte, che l'assetto, che la qualità dell'amministrazione pubblica, l'attrezzatura dell'amministrazione pubblica in questo momento, e ho fatto l'amministratore pubblico, non è adeguata a realizzare quello che dobbiamo fare. Ma non è questa la soluzione. Non fai una seconda struttura, un'amministrazione parallela, i precari di lusso ancora una volta, ma fai quello che noi diciamo, che abbiamo scritto in una proposta che abbiamo fatto con il foro della PIA, con molti parlamentari, con tre Presidenti del Consiglio. Fai in sei mesi, si può fare in sei mesi, attrezzata per maggio. Utilizzi il fatto che stai rinnovando una generazione intera. Ci sono 500.000 assunzioni che si stanno facendo male in questo momento di giovani. Hai la possibilità di usare quelle assunzioni per rivolgerci ai giovani con cui Severnini dialoga sempre, per dirgli tornate in Italia, ma per farlo non devi fare i bandi che ho visto che sono sul web. Sono bandi insopportabili, sono bandi vecchi, dove tutta diritto e tutta amministrazione, l'ha detto oggi anche Cassese, sono contento che lo dica anche lui. Potrebbe essere preso lei tra i 300 consulenti? No, possono farlo loro, possono farlo rinnovando l'amministrazione ordinaria, lo possono fare in sei mesi. Abbiamo fatto all'Aquila 16.000 concorrenti, abbiamo assunto in cinque mesi due settimane delle persone. Loro possono assumerli, ma non dei precari di lusso, assunti per tre anni. Non ha senso. Chiaro, però sarà lunga ancora, sarà molto lunga.